compra o comprate questo libro perché se vuoi partecipare a un training per diventare facilitatore oppure lo compri se non sai se ti interessa davvero però magari sei un formatore un educatore una persona che propone percorsi olistici percorsi di qualche generale gente e vuoi capire di cosa si tratta è un libro per capire lo spirito che c'è dietro grazie